Ciao ragazzi, sono l'amico 125, siamo qui su Youtubers Life Allora, siamo messi abbastanza bene, il computer sta lavorando, questo sta producendo soldi Qualcuno mi ha detto, guarda che tu 950 euro al mese li fai E non ha tutti i torti, perché sì, li faccio La tua casa, 950, sapete che paghiamo questo affitto e andiamo Andiamo sull'altro appartamento, così possiamo Perché mi avete spiegato nei commenti che posso prendere più soldi Posso avere più opportunità, posso avere tante belle cose Quindi perché no, perché no, paghiamoci questo affitto e poi andiamo nella prossima casa In più mi avete detto che, vi ringrazio tantissimo per questi commenti Qualcuno mi ha scritto che io ho un sacco di computer da vendere Ma io non so dove stanno però Possiamo andare a fare acquisti, sì possiamo andare a fare acquisti Andiamo a comprare un altro gioco, vediamo cosa c'è di bello Potrei comprare delle nuove console piuttosto che cambiare casa Ma no, chi se frega, noi giochiamo solo su PC e giochiamo Questo Madness è in salita però va bene I meglio votati, prendiamo quelli che stanno Questi qua ce li abbiamo tutti Prendiamo questo, un Leaded Un Dead Harpoon Online Ma sì, prendiamolo, i soldi ci sono Chi se frega Se non spendo soldi che cavolo me ne tengo a fare Quindi questo qui arriverà oggi presto Mangiamoci un altro Ma beviamoci un po' d'acqua più che mangiare Perché secondo me ci serve un po' d'acqua Quindi questo sta facendo tanti soldi Quindi i soldi ci stanno, non è che non ci stanno Ok, ho creato il tuo account Certo che no, chi se ne frega Non posso dire che cosa Quindi facciamo un video su questo nuovo gioco Harpoon Online Sì, facciamo un gameplay Visto che è uscito il 3 Il primo agosto Già siamo a 25 Inutile fare una prima Facciamo tutto quanto a posto Sì, continua Devo solo capire come vendere i vecchi computer Perché mi avete detto Qualcuno mi ha scritto Vedi che hai i vecchi computer Tutte le cose Ah, mi avete detto anche di sistemare le carte E questo non l'ho fatto Vabbè, speriamoci questa intanto Che sono tanti bei puntini Mi avete detto di sistemare le carte Perché mi stanno uscendo un sacco di carte Che non servono un po' a niente Intanto lui urla tantissimo urla Perché urli? Quando va davanti alla console Urla tantissimo Ok, vedete qua Ogni tanto si abbinano Ogni tanto invece non si abbinano Neanche per il cavolo Mettiamoci questo Cerchiamo di spendere pochi punti Perché già ne ho spesi più della metà E sono a metà No, sono a metà Spendiamo in altri due Anche se è poco Cosa c'è? Post-produzione e copione Che c'ho poco Ok, tutti e due le miglioriamo Miglioriamo il copione Miglioriamo la post-produzione Questo qui lo possiamo fare sempre dopo però Vedete, ogni tanto le carte si abbinano benissimo Altre volte invece non ce n'è neanche a pagarla Ecco, per esempio adesso Non si abbinano neanche a pagarla Ok, comunque due punti vanno bene Poi qua Non ci posso mettere questa Che si abbinava benissimo Mettiamoci questa Purtroppo mi dà zero Quindi sarà anche inutile Finiamo con Potremmo finire con questa Però questo qua mi dà un punto più Ok, no Prendiamo questo qui che mi dà un po' più di copione Poi l'audio lo sistemiamo dopo In fase di editing Ecco Proprio fatto benissimo sto gioco Perché comunque Tu poi dopo devi sistemare le cose A me piace questa cosa qui Che devi stare anche un attimo Un minuto a pensare Partiamo col primo che vale tantissimo Mettiamoci questo Uno che ce l'abbassi E questo Poi uno che Fini Quindi questo qui lo potremmo mettere alla fine Cosa c'è più? Qua c'è un 3-2 Eh, questo è bello Se solo trovassi questo Che si va a collegare con Con questo Guarda E poi E poi ho un problema Perché qui io adesso Lo posso inserire solo un altro E vorrei inserire questo Vorrei inserire così Solo che qua mi escono due puntini rossi Eh, purtroppo non è che ci posso fare niente Allora, vediamo quello che c'è Mi serve Regola il fuoco per alzare questo Alziamo l'audio Rialziamo questo qui Questo marroncino qui Dobbiamo alzarlo tantissimo Quindi alzato Adesso qual è il più basso? È il copiore Quindi aggiungi il titolo E non c'ho più punti Non c'ho Va bene, dai Però il video non è malissimissimissimissimissimo Cioè È normale Dai Cioè abbiamo fatto anche un nuovo record Un nuovo record per la qualità del video Dai, clicca, clicca, clicca Nuovo livello in tutto quanto Pubblica video Ok, quindi questo qui ce l'abbiamo Andiamo qui Abbiamo sbloccato una carta Queste qua con il copyright Lasciamole perdere Prendiamo il commento egoista Commento egoista E facciamo anche un lavoro un po' particolare Sistemiamoci le carte Perché ne ho già sistemate 24 Ma vedo che Allora, all'inizio È inutile che mi porto tutte queste carte Lasciamo questa Lascerei anche questa qui da 4 Ma sì, dai Facciamo così Tanto noi usciamo sempre Lasciamo proprio questo Usiamo sempre questo Noi usciamo il saluto divertente all'inizio Qua invece mi devo portare Allora, questo ce ne ho 2 Di questo ne ho 4 A cavolo E di questo che ne ho tanti Ma perché non posso fare altro Perché sono tutte sbloccate Non ho trovato queste carte Cioè, mi mancherebbe una carta del genere Una carta con le lacrimucce E non ce l'ho da sbloccare Quindi non le posso sistemare Fammi vedere qua Allora, qui c'ho 1 E 2 Perfetto E 3 Ne ho 3 di rabbia 2 2 Mi manca una di queste Che non ho ancora da sbloccare E quello è il mio problema Non ho carte da sbloccare Portiamocene un'altra di queste Posso prenderla questa? Perché non me la fa prendere? Ah, forse qua le ho prese già tutte Allora, c'ho 1 2 di questa 2 di questo 3 di rabbia E un fumetto Allora, tolgo una rabbia Togliamo quello da 2 E mettiamoci una carta di intelligenza Ok, ma non me ne fa selezionare altre Va bene Poi andiamo qui Qua, qual è quella lì che si è sbloccata? Ah, questa è la novità Commento egoista Ma io quasi quasi mi porto quella Cioè Vale un po' di più Mi dà molti più punti Poi qua invece abbiamo Due che piangono 1 e 1 Allora, togliamo Eh no, non lo posso togliere Vedete qua Non posso mettere questo qui Mi mancano delle carte Devo trovare più carte Devo trovare Poi portiamocene una da 7 Saluto col bacio Saluto con un bacio Lo porterei quasi quasi No, però questo qui me lo tengo Questo mi dà 4 e 1 Eh no, non posso selezionarle più Quindi posso selezionarle solo qui Facciamo questo Poi mettiamo il saluto figo Il saluto formale E questo qui Perché non posso selezionarle tante Cioè qua le posso selezionare solo 4 E già ho fatto Non ho altro modo di sistemarle Quindi questo l'abbiamo sistemato Andiamo a dormire O al meglio Ci abbiamo provato a sistemarlo Perché poi sistemarlo del tutto È praticamente impossibile Devo capire dove ho le mie cose vecchie Perché vorrei vendere il nuovo Vorrei vendere il vecchio computer Ok, qui è già diventata notte Aspetta, aspetta Andiamo a mangiarci Ma che ci mangiamo Un tramezzino E voglio gettare Fernanda, no Basta Ci mangiamo un sandwich Così Un sandwich leggero Vegetariano Che di quelli buoni Che a me piacciono Poi andiamo a fare degli acquisti Così facciamo un altro nuovo video Qualcuno mi ha detto Di non dedicarmi troppo ai video Ma voglio cambiare casa Quindi devo dedicarmi A Se non paghi Caricaros Voglio farti sapere Che ho creato il tuo telefono Ruba tutte le tue foto Ma sì Tanto ho le foto nudo io Sul telefono Allora Andiamo a comprare un altro gioco Vediamo che giochi ci sono No Giochi non ce ne sono Quindi facciamo un altro video Cosa sta combinando Ah è salito di livello Aspetta un attimo È salito di livello Ok Mi ha dato anche Una nuova carta Nuove carte Fammi vedere Che carte mi hai dato Ti prego Dimmi che me le date qua Mi sa che me le ha sbloccate Queste sono quelle dell'intro Avevo appena finito di sistemare Porca di quella schifosa Quindi qua ce ne ho Due Tre Quattro Mi manca Uno ingranaggio E uno sorridente Che non ho Quindi mi ha sbloccato Le carte inutili Qua invece ce ne ho Porca miseria L'avevo appena fatto L'avevo Due Due Tre di queste Oh cavolo È uno Due di rabbia Ce ne ho un altro Di intelligenza Che è quello con la rotellina No Non ce l'ho Quindi mi ha sbloccato Le carte inutili E qui va bene Ok quindi No abbiamo Siamo a posto Siamo Andiamo a fare No che cavolo fai Continua Continua Ho sbagliato Pussante Non puoi sbagliare Pussante Qui che in un attimo Che ti Ti taglia le gambe Facciamo questo O questo O questo Già l'abbiamo fatto Diamo un po' di varietà Questo coso Qualcuno mi ha detto Puoi vendere i vecchi giochi Sì li potrei vendere Ma tanto non è che ci guadagno Chissà quanto Cioè alla fine Dai Questi quelli potrei vendere tutti Perché tanto non sono più interessanti Facciamo questo nerfan Facciamo un altro gameplay Su nerfan Mi ricordo che era andata bene Quel nerfan E continuiamo Nerfan gameplay 3 Quindi portiamo a casa qualche gioco Voglio pagare Quest'affitto E cambiare casa Quindi saluto Divertente Qua usiamo tantissimi punti Ma vale 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 un sacco di punti Caricamento con avviso Qua non so cosa metterci Mettiamo il commento non divertente Stiamo caricando Sto morendo Poi qua mi serve Hai sbloccato l'arcivimento Andiamo con quelli da buoni Devo migliorare il copione Devo migliorare Questo qui c'ha copione Sì c'ha copione Vedete qua Si abbinano le carte Che a volte non so cosa metterci Gioco normale Mi serve copione Sì ci metto questa Perché non so Qual è che Qual è quello perfetto Che si abbina bene Quando c'è il punto interrogativo Gli metto sempre quello poco Potrei un attimo rifletterci Ma insomma Qua ci metto Io c'ho pochi punti copione Quindi ci metto questo da 4 Perché mi da 2 punti copione 1 e 1 2 Perché mi da doppia Che si abbina bene Qua ci metto questo Vedete le cose stanno andando bene Stanno andando Adesso qua Cioè era lì Fino a 30 secondi fa era lì Facciamo espressione felice Vabbè C'entra niente C'ho pochi punti Devo migliorare questa cosa Dei punti Qua scena di introduzione Metto un commento corto Così mi tengo 7 punti per la fine Perfetto Vale 0 7 punti per la fine Ci metto Cavolo Non c'è quello lì Faccio una Qual è che mi conviene Questo Questo Mi conviene questo Mi conviene Se si abbina Va bene Va bene Procedi Procedi Guarda Questi tutti in casa mia sono Ma è possibile che c'ho La casa non è neanche mia C'è una cosa È impossibile Mettiamoci questo Questo è da 1 proprio Mamma mia che schifo Questo è da 0 Penso un po' Anche peggio Anche peggio Si poteva fare bene E abbiamo fatto male Siamo riusciti a fare male Poi prendiamo questo Uno che ce li abbia Tutte e due su Poi mi serve qualcosa Da collegare qui E ci metto l'ultimo Vediamo cosa abbiamo lasciato a casa Abbiamo lasciato a casa Questo che vale 3 2 Che non sarebbe male E questo vale 3 2 E questo qui invece vale 1 1 Lo potremmo Però si abbina tutto qui Faccio dei punti editing Proviamo a lasciare questo Allora mi serve Punti questo Punti di quelli marroncini Mi serve anche la musica Mi serve dell'altro marroncino Ma com'è che il marroncino È rimasto così indietro E non posso fare più niente Però il video si abbina benissimo Stai perdendo iscritti Dovesti fare più video Porca miseria Li sto facendo Datemi tempo anche voi E che cos'è Non si può neanche respirare Comunque sono arrivato A 250.000 iscritti Su questo gioco Mamma mia com'è facile Arrivare gli iscritti No grazie Bella mia Ma hai rotto le palle Allora Questo qui è il copyright Questo è il copyright Devo prendere per forza Ringraziamenti 6 punti 6 6 Però c'ha 14 di lampadina Troppe lampadine 315 Vedete qua Io ce la faccio Mo' pago ste bollette E vado nell'altra casa Questa è una cosa Che voglio fare oggi Voglio fare Andiamo a dormire Intanto che ci riprendiamo un po' Non mi ricordo Come si fa a salire Con le lampadine Non mi ricordo Se questo qui Incideva sulle lampadine Sapete Questo non me lo ricordo Ok Poi Andiamo a mangiare Mangiamoci Qualcosuccio Insomma Nerfai Questi vanno bene Mangiamoci Siamo a metà Ci potremmo mangiare Anche un'insalatina Così Un'insalatina mista Di quelle proprio Al bacio Quindi io vorrei Intanto andare a fare Qualche acquisto Visto che il giorno Sono le 22 del 31 Le 23 Facciamo un acquisto Finché non Ok Vedi qua No grazie Esci Quindi abbiamo pagato Le bollette Abbiamo accettato E io direi di cambiare casa La tua casa Trasferisciti Ma guarda questi bastardi Non mi fanno trasferire Perché non mi fanno trasferire Cioè Il pulsantino Sto cliccando Trasferisciti Forse non mi posso trasferire Il giorno 1 Dice Eh sì Ti vuoi trasferire Così non paghi Non paghi l'affitto Sì La mia idea era quella No sì No Cambia niente Cambia Però c'ho internet buono E posso prendere delle cose in più Perché non mi fa trasferire Perché sono le 3 di mattina Facciamo qualche acquisto Se c'è la possibilità Di fare qualche acquisto Allora Non ho capito Perché non mi faceva trasferire Questo sta scendendo Questo sta salendo Ma è 4 Non lo prendo Però 12 euro Sapete che faccio Lo prendo Chi se ne frega Così facciamo un video nuovo Sapete io ho questa Questa cosa di portare sempre video nuovi Vediamo qua Alla tua casa Non mi fa trasferire Non ho capito perché Vai alla tua casa Guarda Non me lo fa fare Non me lo fa fare Beh allora facciamo un nuovo video Così per chiudere il video Spiegatemi perché non mi fa trasferire Sto rincoglionito Ah no ancora non è arrivato Aspetta un attimo Fai esci Premo sempre esc per uscire Ma mi scordo che su questo gioco Non c'è Ok apri Suona il telefono Banca del denaro Vogliamo offrirti Ma lasciala Parlare Ma parla di quello che vuoi Facciamo un nuovo video Info Vediamo cosa c'è Ah ecco qua No Questi mi danno qua Aggiorna No sapete che non so veramente dove c'ho Mi dovete dire Uno perché non mi fa trasferire Due perché Non mi Non trovo le cose vecchie Acquistato Ma io lo posso Ecco per esempio Questo qui ce l'ho Non lo posso vendere Ma dove ce l'ho Cioè dovrei avercele io queste cose Tastiera 140 O ci miglioriamo il computer 450 Eh questi qua ci hanno un sacco di energia Questo qui Webcam Io volevo il case CPU qua 800 costa questo Però ci dà un sacco di potenza Ed editing c'è qualcosa di No Ehm È stato infettato Non lo farò Mamma mia che rottura di palle Questi qua Facciamo un nuovo video Dai Per finire Vediamo di fare un nuovo video Su quel gioco che è appena arrivato Magnetic Zambon Ok Non è un grandissimo gioco Ma Facciamo un gameplay Sapete che io vi porto sempre Sempre giochi nuovi Per farvi vedere Sempre cose nuove Qualcuno mi ha detto Sì ce l'hai Ce l'hai quelli vecchi Ma dove ce li ho Ma avete detto Ma hanno scritto Che ho le vecchie cuffie I vecchi microfoni I vecchi mouse Stastie Tutto quanto ce l'ho Da qualche parte Ma dove Questo è il bello Dove Mi dovete scrivere Guarda che sono lì sotto Perché io sennò non lo capisco Caricamento Facciamo un saluto con la mano Perché ho paura che non vada a bere Poi Caricamento con avviso Ehm Mettiamoci un commento corto Così Così non so cosa serviva Ma perché qua Non ci sono più le faccine Hai perso Hai fatto una cattiva decisione E hai perso tutti i tuoi soldi Ehm Critica Sono uguali Sono questi Critica divertente Però con i fulminini Ok ci stava benissimo Ci stava Qua ci devo mettere Degli altri fulminini Commento serio Vai 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 Penso di poter fare bene Qua un disastro naturale Distrugge tutto Mi serve però C'è questo qua per due Quindi se ci metto La critica scherzosa Anche che mi togli un punto Solo tre Me ne fa sei Guarda lì Mi ha dato otto Di quei punti Anche se non si abbinava Menu principale Ehm Commento divertente Non so che fare Nel menu principale A dire la verità Qua mi servono Le rotelline Cos'è che è basso Il copione Quindi metto questo qui Perché mi da più punti copione Che sono tre punti Ricordatevi Quando si abbinano le faccine Vi da un punto in più Qua cos'è che mi vuoi dare Questo qui mi da punti copione Me ne da Ho cinque Mettiamoci questo Anche se l'abbiamo pagato Un bel po' E magari non arriviamo alla fine Però i punti ci sono Qua mi da due punti copione in più Facciamo espressione felice Così mi da due punti Quindi il copione stavolta c'è Che non abbiamo punti per finire Qua Eh qua Quale sia se ci metto È sbagliato Facciamo un Qua mi servirebbe l'audio Mettiamoci questo Così almeno un punto Me lo dà Comunque questa carta Poi non la utilizzeremo E qui facciamo saluto con la mano Per finire Perché purtroppo quello C'avevo Un solo punto Mi sono arrivati giusti giusti Proposta pubblicitaria E ci piacerebbe che facessi Un video di walkthrough Del nostro ultimo gioco Per E per non si vede che cosa Per Accetta Va bene Vediamo che cos'è Per Fammi capire E guarda Non mi fanno vedere che cos'è Eh A belli Potete scrivere un chilometro Ma se io non capisco perché cos'è Io lo prendo Che se ne frega Allora Editiamo questo video Editiamo Mettiamo tutte le cose così come ci stanno Per vedere come Si stanno Non sta bene niente Non sta bene Questo lo devo mettere per forza Che mi va su questo Qualcosa di Non c'ho le cose basse Mettiamoci questo E questo non si collega per niente Allora lo mettiamo qui questo Perché comunque c'è 5 punti Intanto mi prude il naso Come sempre mi prude il naso A me quando finisco Quando gioco Mi prude sempre il naso A me questo 3 e 2 Lasciarlo a casa Mi spiace Mettiamolo qui E invece di mettere questo qui Che è la fine Ce ne mettiamo Ci mettiamo Ci mettiamo questo I punti editing Non sono tantissimi Ma che ci posso fare Allora Aggiustiamo la musica Poi Aggiustiamo il colore Aggiustiamo il copione E aggiustiamo che cosa Specchio Eh non posso mettere più niente Purtroppo i punti editing Non sono tantissimi Facciamo processa Ok così lo mettiamo in lavorazione Ok Invita un evento Contiamo sulla tua presenza Ma va a far culo va Ok Sono punti esperienza Ma al momento non posso Esperenziarmi niente Poi facciamo apri Questo gioco Spero sia per pc Perché se no Non so veramente come fare E noi facciamo così Entro 15 settembre C'ho 10 giorni Va bene va bene Entro 15 settembre Ci posso stare Questo qui sta lavorando Io andrei a dormire E mentre vado a dormire Vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Dove faremo Il walkthrough E vediamo di cambiare casa Se mi lasciate sotto i commenti Mi fate capire come fare a cambiare casa Anche perché io non l'ho proprio capito Come si fa La tua casa Guarda È bloccato È bloccato Forse mi servono più soldi Forse devo pagare qualcosa Ah devo pagare Accetta La tua casa E non me lo dà Non me lo dà Non capisco perché non me lo dà Va bene Ci vediamo nel prossimo video Sempre qui su Youtubers Life Ciao